Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove ci sono code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPLi, code per viabilità esterna che non riceve in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 20 aprile, restringimenti a tratti per lavori in Piazza Gavinana, Viale Giannotti, Via Giovanni dalle Bande Nere e Via Caponsacchi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!